Una chicca degli 883 per i mille chitari in piazza 2017 è Hanno ucciso l'uomo ragno Bene, con l'introduzione che parte al mio suo modo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Quindi avete notato il cambio di ritmo nel ritornello Quindi dopo un ostinato Osservato Eccetera Un ritmo meglio, dopo cambio gli accenti E così via Ricordiamo che noi stiamo cercando di spiegare i ritmi più semplici Affinché tutti possano suonare senza difficoltà Eccetera 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 Eccetera